salve a tutti i ragazzi e continuiamo a fare esercizi sul piano cartesiano in questo problema viene richiesto di determinare la scissa di un punto a di ordinata meno 2 sapendo che la sua distanza da b di coordinate 0 2 e 5 perciò qui abbiamo come informazione la distanza tra due punti abbiamo un punto a di coordinate x meno 2 x sarà da determinare il punto b di coordinate 0 2 e la distanza a b uguale a 5 usiamo la formula della distanza la distanza tra due punti è la radice quadrata di x a meno x b al quadrato più y a meno y b al quadrato e questo deve essere uguale a 5 eleviamo tutto al quadrato perché a noi interessa x a perciò scriveremo x a meno x b tutto al quadrato più y a meno y b tutto al quadrato uguale 25 la nostra incognita x a che qui ho chiamato semplicemente x possiamo chiamarla anche semplicemente x possiamo sviluppare i quadrati e fare il calcolo letterale però qui possiamo tenere conto che x b è uguale a 0 perciò questo termine va via mentre qui abbiamo y a uguale a meno 2 e y b uguale 2 qui abbiamo x al quadrato più dobbiamo fare meno 2 meno 2 che fa meno 4 tutto al quadrato quindi qui abbiamo più meno 4 al quadrato uguale 25 meno 4 al quadrato fa 16 perciò qui abbiamo x al quadrato uguale 25 meno 16 che fa 9 e abbiamo due valori x 1 uguale 3 x 2 uguale meno 3 perciò se vogliamo determinare un punto che abbia quelle caratteristiche ovvero che abbia ordinata meno 2 e distanza da b pari a 5 avremo il punto meno 3 meno 2 oppure il punto 3 meno 2 dati i punti a di coordinate meno 3 4 e b di coordinate 5 0 determina l'ascissa del punto p equidistante da a e da b sapendo che la sua ordinata è meno 2 perciò qui dobbiamo determinare la x e l'ordinata è meno 2 l'informazione è che questo punto è equidistante da a e da b vuol dire che la distanza tra a e p è uguale alla distanza tra p e b l'ho indicata così con la d ma si poteva semplicemente fare a p uguale p d traduciamo in formula tutto ciò la distanza tra i punti p ed a deve essere uguale alla distanza tra i punti p e b ora possiamo elevare entrambi i membri al quadrato e sostituire al posto di x p x a eccetera eccetera i rispettivi valori qui abbiamo x p è la nostra incognita quindi scriviamo semplicemente x meno x a quindi vuol dire meno meno 3 che fa più 3 tutto al quadrato più y p è uguale a meno 2 meno y a che è meno 4 tutto al quadrato questo deve essere uguale a x p che è sempre la nostra incognita meno x b che è 5 tutto al quadrato più la y p che è meno 2 ma meno y b che è 0 rimane così tutto al quadrato possiamo fare a questo punto i conti e qui rimane x più 3 alla seconda quindi x alla seconda più 9 più 6x quadrato del binomio qui rimane meno 6 al quadrato che fa 36 al secondo membro abbiamo il quadrato di questo binomio x alla seconda più 25 meno 10x e meno 2 alla seconda che fa 4 ordiniamo qui x alla seconda va via portiamo meno 10x a primo membro e otteniamo 6x più 10x che fa 16x e a secondo membro abbiamo 25 più 4 che fa 29 meno 9 che fa 20 20 meno 36 fa meno 16 e in definitiva x è uguale a meno 1 vuol dire che il punto p a ascissa meno 1 è ordinata che era già stata fornita uguale a meno 2 vediamo questo un po più interessante perché abbiamo un parametro determina per quale valore di k la distanza tra i punti p e a vale 5 l'idea è sempre quella di andare a scrivere che la distanza tra i due punti vale 5 o vi faccio notare che questi due punti hanno la stessa ascissa saranno punti posizionati sulla stessa verticale per fare la distanza basterà fare la differenza tra le ordinate abbiamo due punti che hanno la stessa ascissa per determinare la distanza possiamo utilizzare la formula della distanza tra due punti nel caso in cui appunto i punti abbiano la stessa ascissa però vi faccio notare che qui abbiamo il punto a che si trova in questa posizione meno 1 meno 2 e il punto p si può trovare o a distanza 5 verso l'alto o a distanza 5 verso il basso questo non lo possiamo sapere perciò noi dobbiamo determinare due possibili valori di k che ci potranno dare o questa ordina o l'ordinata di questo punto p o l'ordinata di questo punto p non faremo altro che fare la differenza tra le ordinate indicando prima 2k meno 1 meno meno 2 uguale 5 e nella l'altro caso facendo meno 2 meno 2k meno 1 uguale 5 questa è la prima questa è la seconda svolgendo i calcoli qui otteniamo 2k meno 1 più 2 uguale 5 cioè 2k uguale 4 da cui si ottiene k uguale 2 ho saltato i semplici passaggi di svolgere 2 meno 1 che fa 1 e portare 1 a secondo membro quindi 5 meno 1 fa 4 e poi dividendo per 2 si ottiene questo valore di qui abbiamo meno 2 meno 2k più 1 uguale 5 meno 2 più 1 fa meno 1 lo porto a secondo membro diventa più 1 qui abbiamo meno 2k uguale 6 da cui facilmente k uguale meno 3 ecco i due valori k uguale 2 oppure k uguale meno 3 sostituendo in effetti 2k meno 1 nel primo caso ci dà 2 per 2 4 meno 1 3 nel secondo caso ci dà meno 6 meno 1 che fa meno 7 queste sono le ordinate di questi punti li possiamo anche vedere qui dal grafico questo è il punto di ordinata 3 questo è il punto di ordinata meno 7 io vi invito a iscrivervi al canale ad attivare le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video bene ragazzi siamo giunti al termine di questo video di esercizi sul piano cartesiano abbiamo visto nello specifico la distanza tra due punti io vi invito a mettere un like e a condividere l'esistenza del canale grazie per l'attenzione e alla prossima ciao